Siamo con Deborah Bergamini, vice segretaria di Forza Italia. Il segretario Tagliani l'ha detto chiaramente. L'obiettivo è quello di superare il 10% e indicare il voto a Forza Italia come il voto utile per contare di più in Europa. Ma sì, noi ci siamo prefessi il risultato del 10% alle prossime elezioni, elezioni importantissime per il futuro quinquennio dell'Europa. Noi ci proponiamo come una forza politica molto pragmatica, molto concreta, molto competente e sicuramente votare Forza Italia alle prossime elezioni significa far contare l'Italia di più in Europa, semplicemente perché Forza Italia è membro del Partito Popolare Europeo, la più grande famiglia politica europea, la famiglia politica che avrà ancora la leadership nei prossimi 5 anni e quindi il voto per noi significa il voto per più Italia in Europa. Secondo lei come finirà una previsione sul futuro assetto del Parlamento europeo? Noi siamo molto ottimisti sul fatto che le forze che si riconoscono nel perimetro del centro-destra possano fare un ottimo risultato. È evidente che è molto difficile in questa fase così complessa interpretare la volontà di potenziali 450 milioni di cittadini europei che sono chiamati al voto, quindi dovremo vedere e poi all'indomani del voto, come si è sempre fatto naturalmente, si costruiranno le alleanze necessarie a garantire comunque un forte cambiamento dell'Europa, non fatto con slogan o provocazioni come fanno alcuni, ma con la concretezza delle cose urgenti da fare a cominciare finalmente da una politica estera e di sicurezza comune.